Il debito pubblico italiano, sarò onesto, a mio avviso non è un problema. Io questo non è che lo dico stasera, lo dico da tanto tempo. C'è una strana concezione che gira e devo dire che a volte è spinta anche da persone con cui su molti altri temi concorro, secondo cui il problema del debito è che noi dobbiamo ripagarlo. Allora partiamo da lì, no, non dobbiamo ripagarlo, nessun debito pubblico serio si ripaga. Infatti i debiti pubblici più seri nella storia della finanza mondiale si chiamavano perpetuity or console dell'impero inglese e dovevano per definizione la seguente caratteristica, non ve lo restituiremo mai. Voi mi date 100 pound, io me le tengo, le spendo come voglio perché sono Her Majesty the Queen e poi vi prometto che vi pago 2,5%, 3%, quello che è, forever. Questo titolo ve lo potete commerciare, è solido, c'è lo stampino del Commonwealth dell'impero, noi ve lo pagheremo sempre, è liquido, ci sarà sempre della gente che lo vuole perché c'è sempre della gente che vorrà una garanzia sicura di investire e avere un reddito di X% per sempre. L'idea di ripagare il debito, quindi, è un'idea che spunta quando? Quando è che vuoi ripagare un debito? Quando ti ripaghi un debito? Quando percepisci che non è più solido. L'idea di ripagare il debito è una specie di Pavlovian reaction di un creditore che dice Orca, meglio che porti a casa quello che posso, no? Perché questo qua sta facendo. Quindi spingersi continuamente su quella linea argomentativa vuol dire suggerire guardi che io sono un debitore poco affidabile, che non è bella cosa. Il problema del debito è che devi fare l'opposto, devi garantire che non lo stai facendo crescere più della tua capacità di servirlo, per quello il rapporto fra debito e prodotto interno lordo o misure di capacità fiscale contano, che tu sei in grado di servirlo, che vuol dire pagare gli interessi, che il rapporto fra quanto sei esposto e quello che sai generare di ricchezza e reddito è stabile, e che quindi c'è ragione di credere che tu questo debito riuscirai a soddisfarlo a tempo indeterminato. Vedo in giro mondialmente, specialmente nei sovranisti, queste cose su Ma il Giappone allora perché loro? Bugie. Perché? Uno, il debito netto dello Stato giapponese verso cioè quello che non è detenuto in realtà come forma di investimento di fondi di pensione e altri verso il pubblico è di poco superiore al nostro in termini di piccolo, ossia 20 punti percentuali di Pili e più. Ma soprattutto il Giappone è un paese dove nonostante la crisi demografica il PIL per capita cresce, la pubblicità cresce, ed ha un carico fiscale, perché questo conta, un carico fiscale sul PIL che credo sia 10 punti inferiore al nostro. Ora siccome ciò che conta dal punto di vista del creditore è la tua capacità di Stato, di estrarre risorse dall'economia privata trasformandole in gettito fiscale tuo per servire il debito, è chiaro che un paese che ha, come l'Italia, si è avvicinato enormemente, è molto vicino alla soglia della capacità dello Stato, mi viene un termine volgare, diciamo di estrarre, di estrarre valore aggiunto dal settore privato per pagare i suoi costi. Quando sei al limite, chiaro che chi ti sta prestando soglia dice aspetta un attimo, quando sei molto lontano dal limite, hai un buffer sostanziale, è un'altra cosa. Questo vale per Giappone, ma vale anche per la Spagna. Non è che io seguo, quando mi interessavo un po' di politica lo guardavo, se credo che la Spagna sia più o meno lì, credo che il clarico fiscale spagnolo sia dell'ordine di 8 punti di PIL, 9 punti di PIL inferiore al nostro. Posso sbagliarmi, qualcuno lo verifichi, ma è sostanzialmente inferiore al nostro. Quindi sono paesi che anche se hanno un rapporto tra debito e GMP simile al nostro, la Spagna inferiore, credo viaggia attorno al 100, 98, il Giappone superiore, hanno in realtà un marge, che la ragione è a rovescio, per cui il debito argentino è continuamente un fattore di rischio, anche se il suo rapporto al PIL è molto inferiore. Perché? Perché l'Argentina è un paese che ha obiettivamente raggiunto il limite della sua capacità di estrarre gettito dal settore privato, quindi variazioni in quel senso trasformano il debito in rischio. Quindi io, francamente, l'approccio al debito in Italia lo farei da questo punto di vista, che poi ci riporta sempre la stessa storia, e cioè il problema è la crescita, il problema appunto con cui lei ha iniziato il sistema fiscale, che è poco efficiente, che non favorisce la crescita, e ovviamente il problema di quanto spendi, perché è lì che te la giochi. È lì che te la giochi. Se tu continui ad avere una struttura della spesa che è particolarmente alta, particolarmente rigida, che non è per niente ciclica, ma è strutturale, nel senso che hai promesso che fai queste spese e le fai per sempre. Venga il sole o venga la pioggia, tu le devi fare. È chiaro che stai dicendo a chi ti presta i soldi, sì, io sono uno che viaggia sulla lama e il rasoio, e qualsiasi colpo di vento riesco io di cadere sul rasoio. Però è questo il rischio del debito, non il debito per sé. Io credo sarebbe importante riuscire proprio a eliminare dal dibattito tutti questi discorsi che hanno a che fare con l'ammontare del debito, con la necessità, se vuole poi veniamo alle ragioni della polemica, la necessità che gli altri paesi ci aiutino a assicurare il nostro debito, che la BCE ce lo monetizzi comprando a noi più debito degli altri, come se la BCE fosse la Befana che fa i regali solo agli italiani. Se togliamo questa mitologia che è una forma di distorsione del dibattito, che il problema sia lo stock del debito e non quelle altre cose che ho detto, e forse evitiamo anche conflitti assurdi con i tedeschi, con la BCE, con gli altri partner europei, ci concentriamo sulla cosa che conta, che è garantire che siamo in grado di servirlo. Poi nessuno ci chiederà di ripagarglielo, io non ho proprio, non esiste, non credo esista, ci pensavo prima, non credo esista di sicuro nel secondo dopoguerra, quindi negli ultimi 70 anni, nessun paese avanzato che si sia mai sognato di dire adesso ripaghiamo il debito. Quindi anche per esempio tutti i discorsi sulla patrimoniale, e mi fermo, se vuole poi ne torniamo, che girano continuamente, che ho visto uscire anche in questi ambienti in cui mi sono sempre opposto, ma non per ragioni ideologiche, ma per ragioni tecniche. È un'assoluta, si può dire cretinata? Cretinata dire bisogna fare la patrimoniale per abbassare il debito, è un'assoluta, basta fare due conti. Se abbassi il debito del 10%, vuol dire che devi estrarre in un colpo solo dal reddito degli italiani. Per pagare le tasse, sai, devi trasformarlo in qualcosa contante, no? Quindi 250 miliardi, che è una cifra gigantesca. Voi pensatevi, 250 miliardi in più, te li regalo, è una roba da ridere, questo è un paese dove la gente fa coltellate per finanziari di 8, 12, cioè 250 è una botta infinita. Ma poi uno ci pensa, e cosa ci ho guadagnato? Sono passato dal 134, cos'è, al 125 e basta, in tre anni com'è, sono tornato al punto di partenza. Ma ragazzi, lasciamo stare questa discussione, da destra a sinistra è una follia, è una perdita di tempo, è confusione, parliamo di come è fine. La ragione per cui dico che ossessionarsi sul debito, come fanno alcuni sul controllo del debito, sul taglio del debito, tipo l'amico Carlo Cotarelli è sbagliato, è perché non è lì la causa. La causa è la crescita continua del debito, la causa del debito, e il continuo pensare, volere, agire politicamente, socialmente, pensando che solo attraverso più spesa pubblica verrà la crescita. Quello è sbagliato. Occorre capire che la crescita avviene attraverso quello che abbiamo detto prima, l'innovazione, la concorrenza, il cambiamento, il miglioramento. Il buttare via ciò che non funziona, che vuol dire anche licenziare, che vuol dire chiudere, che vuol dire smantellare, per costruire nuovi, però vuol dire rinunciare alle strutture esistenti, perché non funzionano, ce ne sono i meglio. Quando fai questo, siccome non diventi ossessionato, non sei più alla ricerca di maniere di spendere, il debito smetti di aumentarlo, perché smetti di fare i deficit. Tutto il deficit viene dall'idea che continuando a spendere, sussidiare, a buttare soldi di qua e di là, tu crescerai. Non è semplicemente trasferirsi soldi da un parte all'altra, così facendo alcuni ne perdi, il punto a fare crescere il paese. E se tu ti concentri su quello, eviti di aumentare il debito, riduci il rapporto debito-prodotto interno lordo, e a quel punto i rischi finanziari che ti derivano dal debito, che sono dovuti al fatto che un debito ha perturbazioni, paure, crisi sui mercati finanziari, ti aumentano i tassi interessi, ti mettono in difficoltà, diventa molto più debole, perché quando il tuo rapporto debito-pil passa da 160, dove sta arrivando purtroppo, a 120 o a 110, allora sei molto meno a rischio, e meno sacco sulle spalle, la sanità ti pesa meno.